Macro categoria imprese, categoria innovazione and leadership. Il premio è quello di eccellenza dell'anno innovazione and leadership, pagamenti elettronici. La motivazione? Per essere leader nel settore dei pagamenti elettronici e per aver intrapreso un percorso virtuoso in ambito di open banking mantenendo il ruolo focale di partner tecnologico capace di accompagnare il sistema bancario nazionale, la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini nella rivoluzione digitale in atto. The winner is CBI. È un piacere avere con me in collegamento Liliana Fratini Passi, direttore generale di CBI che saluto alla quale faccio naturalmente i miei complimenti. Bentrovata Liliana. Grazie davvero per l'opportunità e soprattutto per aver organizzato questo premio anche considerando il periodo quindi in modalità digitale soprattutto aver consentito di non mancare un appuntamento così significativo ma in particolare come direttore generale di CBI sono onorata, molto onorata di ricevere il premio Le Fonti e con orgoglio ho ascoltato la motivazione che la giuria ha esteso e soprattutto riconosco in questa motivazione l'impegno che non solo il presidente Maccarone ma soprattutto il consiglio di amministrazione e le banche che vi siedono hanno impresso in questi anni al percorso evolutivo e strategico di CBI di questa società. Un sentito ringraziamento ovviamente va in particolare a tutte le persone che lavorano in CBI che quotidianamente giorno dopo giorno hanno davvero impresso con loro dedizione, energia e con la capacità di sapere far squadra non solo tra di noi ma soprattutto con tutti i partecipanti delle banche ai consigli di amministrazione ebbene hanno saputo rendere possibile evidentemente questo risultato e questo riconoscimento. Liliana sì sì io mi serisco solo per dire che lei ha già avuto modo di sottolineare che insomma soprattutto in un momento come questo è ancora più come dire dà un po' di respiro avere anche un premio riconoscimento per quello che comunque si è fatto nonostante le difficoltà. Ecco nella motivazione così le do ancora la parola per capire anche come guardare al futuro da questo momento in poi abbiamo letto mantenendo ruolo focale di partner tecnologico capace peraltro di accompagnare il sistema bancario nazionale, la pubblica amministrazione, le imprese e i cittadini in questo percorso barra rivoluzione digitale che è in atto ma appunto però per cui si ha bisogno no comunque di un referente e di un riferimento che in questo caso siete voi. Sì in effetti lo siamo noi siamo una società consortile per azioni che annovera oltre 400 intermediari finanziari tra i suoi soci clienti e con oltre 20 anni di storia noi possiamo essere definiti come lab per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione proprio dell'industria finanziaria nazionale ed internazionale proprio avendo e mantenendo focalizzazione verso le imprese, verso i cittadini e la pubblica amministrazione. Siamo sicuramente dietro le quinte, noi lavoriamo, serviamo le nostre banche che sono i nostri soci ma anche i nostri clienti per sviluppare i servizi di pagamento, infrastrutture interoperabili affinché tutto l'ecosistema sia in circolarità piena e quindi abilitando un pieno colloquio digitale tra le banche, le imprese, i cittadini e pubblica amministrazione. Noi ci sentiamo di aver sviluppato negli ultimi tre anni un percorso significativo avendo anche avendo ascoltato la motivazione del riconoscimento, avendo sviluppato una piattaforma multioperatore, CBI Globe, una piattaforma che aiuta proprio non solo le banche ma anche tutte le fintech a dialogare in un contesto sempre più sfidante della payment service. Certo Liliana, quindi come guardare al futuro in questo momento? Noi guardiamo al futuro non soltanto ampliando servizi verso ovviamente la pubblica amministrazioni, ad esempio sviluppando nuove funzioni che con CBI Globe verranno messe a disposizione dalle banche verso la PIA e verso le imprese come funzioni quali il check-evan e quindi interazioni con tutto il sistema, ovviamente il sistema corporate e il sistema PIA. Noi crediamo però che la nostra storia derivi anche da aver messo ad esempio già da vent'anni un servizio come il corporate banking interbancario utilizzato da circa 20 milioni, circa da 3 milioni di imprese in tutte le operatività di cash management. Quindi noi da anni abbiamo una storia di capacità di sviluppare servizi per i pagamenti e per l'interoperabilità. Ottimo, che dire, ancora tanti complimenti a tutto il team e naturalmente a lei in prima persona come direttore generale di CBI, Liliana Frattini Passi, io la ringrazio ancora, naturalmente questo deve essere sempre di buon auspicio per il futuro ma l'abbiamo già detto, quindi davvero complimenti e al prossimo premio. Grazie, grazie davvero, grazie a tutti.